Ciao a tutti e benvenuti nel video tutorial di FlexClip, un'applicazione web di video making che permette di sviluppare video senza esserne necessariamente un esperto. Per poter iniziare ad utilizzare l'applicazione andiamo a digitarne il nome. FlexClip a questo punto ci chiederà di effettuare il login oppure la registrazione. Questo potrà avvenire tramite proprio account Facebook Google oppure inserendo la propria mail. Dopo aver effettuato il login o la registrazione apparirà la seguente schermata che è la dashboard di FlexClip. A questo punto potremo editare video inserendo immagini, suoni oppure altri video da integrare che potranno essere poi condivisi nei social network oppure potranno essere scaricati in locale nel proprio computer. A questo punto potremo procedere con la creazione dei prodotti, quindi dei video. Sarà possibile farlo tramite dei template che FlexClip mette a disposizione oppure potremmo decidere di partire da zero e quindi andare a personalizzare fin dall'inizio i nostri video. Questa è la schermata di editing dei video in cui potremo andare a inserire un testo oppure delle icone o dei loghi o inserire file musicali oppure delle immagini. Per farlo basterà cliccare trascinando l'oggetto che appunto vorremmo andare a inserire in caso poi modificarlo. Potremmo poi andare ad aggiungere più diapositive che andranno poi a comporre le varie sequenze del video. Per farlo basterà cliccare su questo tasto in cui potremo andare ad aggiungere dei file multimediali come video, foto che ci mette a disposizione FlexClip. Quindi in questo caso faremo Usa video. Oppure andare ad aggiungere delle risorse locali dal nostro computer o semplicemente aggiungere un background di cui poi potremo decidere il colore come per quanto riguarda la prima diapositiva. Poi per ogni diapositiva sarà possibile sceglierne il tempo di durata oppure in caso duplicarla oppure attribuirle una transizione. Inoltre potremo anche in caso registrare la nostra voce tramite questo tasto. Una volta terminato il video potremo salvarlo oppure visualizzarlo in anteprima oppure esportarlo. FlexClip quindi è un'applicazione molto facile e intuitiva da utilizzare e permette di creare dei video in modo facile e veloce anche se non si hanno delle grandi competenze, non si è esperti in montaggio e creazione di video. Il video tutorial è terminato, buona giornata e ciao a tutti! Grazie a tutti!